Tu hai scritto una cosa molto bella, che nella didattica spesso si confonde, cioè c'è confusione tra mezzi e fini. Ce la spieghi un po' meglio? In realtà ne parlavo in senso positivo, partendo da una frase di Dewey che diceva nell'arte c'è una risonanza tra mezzi e fini. Cosa voglio dire? Che ci sono due modelli, potremmo dire, faccio una caricatura dei due estremi dell'architettura. Uno è l'architetto artista che bevendosi del baccar di freezer, facendo così nel cielo, inventa una forma, cioè l'idea dell'insindacabilità della forma. L'altro l'architetto in camice bianco che prendendo i dati dei bambini, del sole, del numero di popolazione, mette dentro questi dati una specie di black box progettuale, viene fuori un nastro che è il suo progetto. Cioè una è la caricatura del modello scientista nell'architettura, dove non c'è il grado di libertà ma solo un processo, l'altro è l'insindacabilità della forma. Io credo che ogni architettura e anche didattica ha a che fare con la gestione della libertà, ma non insindacabile. Per cui c'è una cosa molto bella che dice Paul Valery, dice, l'artista è colui che trasforma l'arbitrio in necessità. Io insegno ai miei studenti, non a tanto insegno a usare dei strumenti in maniera rigorosa, di tipo tecnico, tanto in fondo gli insegno anche a gestire con responsabilità il grado di libertà che rimane dalla tecnica. Se io presuppongo che la tecnica dice tutto, non ho più grado di libertà e viceversa non posso conquistarmi una libertà to court. Per cui è proprio nell'interstizio tra libertà e determinismo che sta anche la didattica, secondo me. Un'ultima domanda su un tuo progetto simbolo, il portello. Qualcuno, Luca Molinari, ha scritto che è una condizione anomala per un progetto speculativo. effettivamente c'è, come dire, molta qualità in residenze in realtà nate anche con progetti di edilizia commerciale, potremmo anche dire, nel senso che rispondono a un bisogno. In questo caso, ma secondo me, non parlo del dato urbanistico, che secondo me è interessante, perché mischia edilizia convenzionata, libera, commercio, cioè lì c'è stato, c'è anche un problema in questi progetti di tenere la complessità del programma della città. Spesso le espansioni residenziali sono delle enclave monofunzionali, per cui secondo me il portello, anche una committenza, non dico illuminata, ma certamente, come dire, all'interno, diciamo, dei parametri anche economici dell'operazione, c'è stata anche una certa lungimiranza. Un luogo da vivere con più funzioni, non solo un quartiere dormito. Per dire che anche, su certe cose, certamente anche con l'amministrazione pubblica, per cui non è, io non ho niente contrario alla parola speculativa, ma dico che c'è anche una buona impostazione generale. All'interno di questo, nel momento che diamo una risposta fisica, il tema è complicato oggi, in queste situazioni di, diciamo, che non sono periferiche, ma neanche centrali, proprio sul modello dello spazio pubblico. E ne parlavo oggi, prima a colazione ho avuto Biondillo, che è quello scritto Metropoli per principianti, che è un architetto che non fa quasi più l'architetto, proprio su questo tema della sociologia, quasi, a città contemporanea. Parlevamo proprio dei quartieri, lui è quasi un sostenitore, dice, in fondo, io sono nato a Quartogiaro, e i quartieri periferici non sono così brutti, sottolinea spesso questa sua origine, ma, secondo me, c'è proprio il tema oggi di qual è la qualità dell'in-between, tra la privacy dell'alloggio e la città nella sua scala generale. Qual è la dimensione conforme, la natura del verde, come accedo alle case, diciamo, gli spazi di relazione. Forse il portello va letto come un tentativo di lavorare non tanto sull'alloggio in quanto tale, che spesso è un po' consegnato da, diciamo, l'elemento immobiliare, ormai l'alloggio, non dico che l'alloggio è completamente chiuso, però a pochi margini. Secondo me si è lavorato sul rapporto tra spazio interno e spazio esterno, tra spazio condominiale e spazio pubblico, cioè, diciamo, su un'interfaccia tra dimensione individuale e dimensione collettiva, e anche nel rapporto col contesto. Ultimissima domanda, un po' politica, come interpretare l'occasione dell'Expo? Chiaro, avresti bisogno di tre ore almeno per poterne parlare, però velocemente che cosa si può fare, cosa potete fare voi architetti e cosa possiamo fare noi che viviamo la città? Allora, l'Expo secondo me è un'occasione di guardarsi allo specchio, potremmo dire, in senso non troppo moralista, ma neanche troppo falso. Cioè, quando noi scegliamo come vestirci, oggi sono vestito di marrone, perché non so dire perché, monocromo, ma tu non cerchi la falsità, ma neanche la nudità. Una città nell'Expo si guarda, cerca di capire le proprie qualità e cerca di dare agli altri un'immagine di se stessa che sia ragionevolmente veritiera, però certamente non in bigodini. L'altra è un'occasione, certamente anche finanziaria, di darsi le infrastrutture. Milano è rimasto un po' indietro, per cui è al contempo una vetrina, è un rapporto tra temporaneo e permanente, dovrebbe avere un carattere, non arrivo dire utopico, alcune expo hanno contenuto frammenti di utopia, ci sono anche dei frammenti di utopia andate a male, io visitando il sito dell'Expo di Montreal, oppure anche quello, sono stato adesso a Danove, c'è il pezzo lì o Siviglia, vedi le rovine delle utopie, arrugginite o cosa, molto spesso la monorotaglia non funziona, e così via. Ora, per cui il tema del rapporto tra temporaneo e quello che rimane, però è vero anche che, non so, a Roma, l'Euro, piuttosto che minimamente a Barcellona, ci sono molti siti di Expo, che sono diventati città. Per cui, come dire, questo carattere, che non è prosaico, ma non è anche fuori di coso, secondo me è l'elemento più interessante. Certamente, essendo una macchina molto grande, Milano ha una grande occasione, è partita forse un po' tardi, per cui noi progettisti saremo, quelli coinvolti naturalmente, saranno coinvolti da un elemento di accelerazione temporale, un po' il rischio è che tra il tempo dei consegni e il tempo adesso, la parte molle sia il tempo di progetto, questo è un po' un pericolo che io vedo, però è anche una sfida di produrre qualità just in time, come sarà probabilmente. Grazie. Prego, grazie a voi.